Buongiorno a tutti, l'argomento di oggi è il frutto. Che cos'è un frutto? In termini botanici è la modificazione dell'ovario in seguito alla fecondazione. Nel momento in cui è avvenuta la fusione tra il polline e l'ovulo all'interno dell'ovario, quest'ultimo si ingrossa e si trasforma in un frutto. Dal punto di vista biologico, il frutto serve per proteggere, nutrire e difendere il seme o i semi che contiene. I frutti vengono poi distinti a seconda della loro consistenza in frutti carnosi, in frutti secchi e questa è la principale distinzione. Iniziamo a conoscere alcuni frutti carnosi. Il termine carnoso si riferisce alla presenza di una polpa sugosa che può essere masticata. Ecco qui il primo tipo di frutto carnoso, ossia una drupa. Vedete bene, all'interno vi è un solo seme distinto in endosperma, embrione, tegumento. Attorno c'è la polpa carnosa che viene chiamata e distinta in endocarpo, mesocarpo, esocarpo. Dopo queste tre parti formano insieme il frutto e il pericarpo. Sono drupe, oltre alla pesca, l'albicocca, la ciliegia, la susina, tutti quei frutti che contengono al loro interno un solo seme. Un secondo tipo di frutto carnoso è la bacca e qui vediamo un pomodoro perché dal punto di vista botanico il pomodoro è un frutto. Un frutto carnoso che contiene nella polpa numerosi semi. Questa è la differenza rispetto alla drupa che ne contiene una sola. E qui è interessante questo disegno perché fa capire molto bene le trasformazioni delle varie parti del fiore. Lo stigma, la parte superiore del pistillo è questa, questa porzione qui è lo stilo, qui si vedono i sepali, il peduncolo del fiore e quindi l'ovario si è talmente sviluppato da creare la parte carnosa del frutto che noi mangiamo e all'interno dell'ovario i singoli ovuli fecondati si sono trasformati in semi. Un altro tipo di frutto carnoso è detto esperidio, in cui la cui caratteristica è quella di avere la polpa suddivisa in spicchi contenenti ciascuno dei semi. Sono esperidi tutti gli agrumi per cui il limone, il cedro, il pompelmo, il pomelo, l'arancio e qui ho una osservazione da fare. Stanno diventando molto di moda, passatemi questo termine, le cosiddette clementine che sono mandarini privi di semi. Perché si sono diffusi tantissimo? Perché per noi uomini sono più comodi da mangiare non avendo i semi all'interno. Ma voglio sottolineare come l'uomo abbia compiuto una modifica genetica contro natura selezionando piante in cui il frutto ha perso il vero ruolo che è quello di contenere i semi. Per cui questa modifica è stata fatta solo e esclusivamente per il consumo umano. Ed ecco qui un pomo. Sono pomi le mele e anche le pere. Considerate in realtà dei falsi frutti. Botanicamente non sono frutti veri. O meglio, il vero frutto è solo il torsolo. Questa porzione che contiene all'interno i semi. Poiché tutta la parte carnosa che noi mangiamo la polpa non deriva dallo sviluppo dell'ovario bensì del ricettacolo, quella parte posta al di sotto della corolla. Per cui botanicamente i pomi sono considerati dei falsi frutti. E tuttavia sono buonissimi e hanno tante proprietà. Oltre ai frutti carnosi esistono poi i frutti secchi. Quelli cioè privi di polpa. Che a loro volta si distinguono in dei scenti che cioè a maturità si aprono liberando i semi. E in in dei scenti che non si aprono. Tra i primi, tra i frutti secchi dei scenti vorrei ricordare sicuramente i legumi. Il frutto dei legumi è chiamato baccello ed è una sorta di astuccio all'interno del quale ci sono i semi. Esempi di legumi sono i fagiolini, le taccole, i fagioli. Fagiolini e taccole noi li mangiamo completamente. Quindi mangiamo sia l'astuccio, il baccello con all'interno i semi. Mentre ad esempio nei fagioli tendiamo a mangiare solamente i semi. Ma ricorderei altri termini quale ad esempio le capsule che sono delle strutture che poi esplodono, scoppiano e rilasciano i semini all'interno. Tra quelli in dei scenti abbiamo le di samare o anche solo samare che hanno il seme alato. Quindi il frutto è il tutto. Il seme è questo con l'aletta per essere trasportato dal vento. Ma ci sono anche gli acheni che sono dei semini con un piumino. Anche sempre questo con lo scopo di essere trasportato. Interessante la singola samara. Qui ce n'erano due, qui c'è solo una samara con la parte membranosa per il trasporto. E per concludere vorrei ricordare a tutti che le noci che noi siamo soliti mangiare dopo aver rotto il guscio o mangiare nell'interno. Le noci nascono come druppe. Vedete? Dove c'è la polpa carnosa che non è commestibile, che viene eliminata ma oppure marcisce in natura. Noi utilizziamo il seme che viene racchiuso in questo guscio molto molto rigido tanto da richiedere forza per essere rotto. Quindi ricordiamoci che la noce è il seme contenuto all'interno di una druppa. E per i frutti è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo prestissimo. Grazie, buona giornata.